Mercoledì 11 aprile dal Vangelo di Giovanni capitolo 3 versetti 16-21 In quel tempo Gesù disse a Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fai male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Cari amici, continua la lettura del capitolo 3 di Giovanni. Ieri abbiamo meditato i versetti da 7 a 15 oggi proseguiamo con i versetti da 16 a 21. Cosa sottolineare in questa parte del discorso di Gesù a Nicodemo? La missione di Gesù è una missione d'amore e di salvezza. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito. È Gesù stesso che ci rivela le intenzioni del Padre Suo. Il suo invio tra noi risponde alla sollecitudine del Padre per ogni uomo. Nulla deve andare perduto. Ognuno di noi è chiamato alla vita eterna. La misericordia di Dio è senza limiti. Non ha mandato il figlio a condannare, ma a salvare. Purtroppo l'uomo frappone degli ostacoli. Il più grande, quello che annulla la volontà salvifica di Dio, e il sacrificio di Gesù sulla croce, è l'incredulità. Chi non crede si autoesclude dalla salvezza. Dio si arrende di fronte al libero arbitrio. L'uomo è un essere libero e può scegliere le tenebre anziché la luce. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Così Gesù in Giovanni 8,12. Dio non si impone. Vuole che sia l'uomo a scegliere. Ma questo viene dopo che Dio ha dato tutto quello che poteva per aprire davanti all'uomo la via della salvezza. Non c'è infatti amore più grande di colui che dà la vita. Gesù nel colloquio con Nicodemo prende atto che gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie. Ma chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Cari amici, andiamo verso la luce. Andiamo verso Gesù. Buona giornata nel Signore.